Bene, parliamo oggi dei titoli abilitativi necessari per gli interventi edilizi, così come sono normati dalla legge regionale 1 del 2015, legge regionale dell'Umbria. I titoli abilitativi sono essenzialmente di tre tipi, permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività e poi c'è anche l'attività edilizia libera. In realtà il termine direbbe che se è un'attività edilizia libera sarebbe qualcosa che non necessita di titolo abilitativo, però approfondiremo poi questo aspetto. Allora, gli interventi oggetto del titolo abilitativo ovviamente devono essere conformi alle prescrizioni dei piani urbanistici e devono rispettare i vincoli esistenti. Cioè, questo vuol dire che io quando presento un progetto e richiedo un titolo abilitativo oppure il mio progetto è soggetto a un titolo abilitativo, chiaramente il mio progetto deve essere conforme a quello che gli strumenti urbanistici generali, attuativi e vincoli vari prevedono nell'area di intervento. Allora, prima di poter parlare appunto dei titoli abilitativi, definiamo quali sono gli interventi edilizi. Gli interventi edilizi sono elencati in questa slide. Allora, per i nuovi edifici gli interventi si chiamano ovviamente di nuova costruzione e questo è ovvio. Invece gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, quindi sugli edifici esistenti, possono essere di questi cinque tipi. O ristrutturazione urbanistica, nel caso in cui è una ristrutturazione che riguarda diciamo più isolati, quindi una parte di territorio, quindi non soltanto un singolo edificio. Poi c'è la ristrutturazione edilizia, che riguarda la ristrutturazione di un edificio, quindi senza intaccare l'aspetto urbanistico e quindi può portare anche alla realizzazione di un edificio che è completamente differente da quello iniziale, quindi con una cubatura differente, un'altezza differente, una destinazione d'uso differente e quant'altro. Poi ci sono gli interventi di restauro e risanamento conservativo, che sono interventi atti a riportare, diciamo così, l'organismo edilizio alla sua originalità. Questo può essere fatto sia aggiungendo cose che nel tempo sono state tolte, oppure anche togliendo cose che nel tempo sono state aggiunte. Quindi è un intervento un pochino ampio, nel senso che può riguardare più cose, a patto che l'obiettivo ultimo sia quello di salvaguardare l'organismo edilizio esistente. Poi ci sono gli interventi di manutenzione straordinaria, come dice la parola sono chiaramente interventi più leggeri, però per manutenzione straordinaria si intende la manutenzione che non necessariamente deve essere fatta. Per esempio, un esempio classico, io ho un tetto di un edificio in legno, diciamo così, questo tetto dopo tanto tempo c'è necessità di doverlo rifare, io lo rifaccio magari in cemento armato, però mantenendo la stessa forma, la stessa pendenza e non aumentando la volumetria dell'edificio, questo intervento si considera come manutenzione straordinaria, quindi può riguardare anche parti strutturali dell'edificio. E poi ci sono gli interventi di manutenzione ordinaria che sono gli interventi quelli più semplici, insomma, che si fanno normalmente, tipo ridinteggiatura e cose di questo genere. Allora, iniziamo con il primo titolo abilitativo che è l'attività edilizia libera. Allora, le tipologie di interventi edilizie di cui abbiamo parlato prima, chiaramente ogni tipologia afferisce, diciamo così, a un titolo abilitativo particolare, anche se poi dopo ci sono delle sfumature di interventi che a seconda di come si configurano possono essere abilitati o con, per esempio, con la scia o col permesso di costruire o con l'attività edilizia libera. Allora, vediamo così, per sommi capi, quali sono le opere oggetto di attività edilizia libera. Qui sono quelle proprio elencate dalla legge regionale, però ho messo in eretto quelle che sono le più significative, le più importanti, quindi sicuramente le manutenzioni ordinarie. Quindi, le opere pertinenziali degli edifici, le pertinenze degli edifici possono essere delle, che ne so, la realizzazione di un ripostiglio, poi la norma della legge regionale dirà che questo ripostiglio non potrà avere più di 8 metri quadri, non può essere distante più di tanto dall'edificio, però si chiama pertinenza. Le opere interne alle unità immobiliari e così tutta un'altra serie di opere che voi leggerete da soli, che qui non sono riportate in grassetto, anche perché meno comuni, però essenzialmente sono la manutenzione ordinaria e opere interne degli edifici. Quindi spostare un tramezzo, se non è un tramezzo portante, quindi non vado ad intaccare la struttura, rientra sicuramente come attività edilizia libera. Allora, l'attività edilizia libera si divide in due tipi, attività edilizia con comunicazione e senza comunicazione. Che cos'è la comunicazione? Significa che pur potendo intervenire in modo libero, come la parola stessa dice, però questo intervento che io vado a fare lo devo comunicare al comune. Quindi una semplice comunicazione, quindi diciamo una dichiarazione che dice io realizzerò questo. E quali sono questi interventi? Sono sicuramente la manutenzione straordinaria e anche il cambio d'uso di parti di edifici, oltre a tutta un'altra serie di opere minori. Tutte quelle che non rientrano in questa categoria sono opere senza comunicazione. Permesso di costruire. Allora, rimane, diciamo così, sono passato dall'attività edilizia libera al permesso di costruire. Diciamo, ho lasciato uno spazio in mezzo che è quello della scia, segnalazione certificata di inizio attività. Perché adesso, avendo definito quali sono gli interventi oggetto dell'attività edilizia libera, adesso vediamo quali sono quegli oggetti del permesso di costruire, tutti i rimanenti saranno oggetto di scia. Allora, il permesso di costruire, diciamo, è il titolo più impegnativo, più importante. È un titolo abilitativo che deve essere rilasciato dal comune. L'attività edilizia libera è una semplice, diciamo così, comunicazione. La scia lo vedremo la prossima volta. Il permesso di costruire, invece, è proprio un permesso che viene rilasciato dall'amministrazione comunale. Quindi riguarderà gli interventi, diciamo così, più importanti. Quindi sicuramente la nuova costruzione, la ristrutturazione urbanistica, la ristrutturazione edilizia, gli interventi su edifici esistenti nelle zone agricole e le modifiche di destinazione d'uso. La ristrutturazione edilizia, come dicevo prima, è, diciamo così, forse l'intervento più invasivo, cioè quello che può portare ad organismi edilizi completamente diversi da quelli esistenti, tutto o in parte. Finalizzati anche la riqualificazione degli edifici esistenti. Nel termine, nel permesso di costruire, ecco, sono indicati quando viene rilasciato il termine ultimo per l'inizio dei lavori e il termine per l'ultimazione dei lavori. Allora, l'inizio dei lavori deve essere comunicato, nel senso che viene rilasciato il permesso di costruire. Io ho un anno di tempo per poter iniziare i lavori. Ok? Quindi, una volta rilasciato il permesso di costruire, entro un anno devo comunicare al comune che inizierò i lavori. E poi ho quattro anni di tempo dall'inizio dei lavori per poterli ultimare. La data effettiva di inizio dei lavori deve essere comunicata tre giorni prima insieme all'identificazione del direttore dei lavori e dell'impresa che realizzerà. La parte di lavori che non viene ultimata in tempo sarà soggetta a un nuovo permesso di costruire, a meno che le cose che mancano sono delle opere minori che possono essere diciamo così realizzate mediante una scia. La domanda di permesso di costruire deve essere presentata al SUAPE, lo sportello unico per l'attività edilizia, correrà da tutta la documentazione così come prevista dal regolamento edilizio che riguarda essenzialmente l'attestazione del titolo di legittimazione, cioè che spesso è tipo la visura catastale, cioè oppure l'atto di acquisto dell'immobile che dà titolo a poter presentare la domanda di permesso di costruire, tutti gli elaborati progettuali previsti e altra documentazione. Per quello che riguarda i tempi di rilascio del permesso di costruire la legge cerca di dare dei tempi diciamo così certi, per cui l'amministrazione comunale ha 75 giorni di tempo complessivi della data di presentazione per raggiungere al provvedimento finale, che è il provvedimento appunto di adozione del permesso di costruire. Se gli elaborati tecnici che sono stati presentati non sono incompleti, l'amministrazione comunale può dichiarare ricevibilità però entro un massimo di 10 giorni della presentazione della domanda.